Dopo la vittoria per 2-1 sul Foligno, la Cavese fa un ulteriore passo in avanti verso i play-off, un passo probabilmente decisivo. Dopo la vittoria sul Foligno e gli ulteriori punti di distanza sul Foggia, la Cavese vede sempre più vicino il traguardo agognato. E se dovessero andare bene anche le prossime due trasferte consecutive che il calendario prevede con la Pistoiese e il Taranto, l'assalto è lanciato anche le prime piazze del girone. A un tiro di schioppio infatti restano Gallipoli e Benevento, altra campana rivelazione del campionato. Un po' più lontana la prima piazza, al momento saldamente nelle mani del Crotone. Ma tutto è possibile, visti i numerosi scontri diretti che le concorrenti per gli spareggi saranno costrette a vivere negli ultimi 5 turni di regular season. Anche se Andrea Camplone di assalte al vertice non vuol più parlare, si pensa solo alla doppia trasferta di Pistoiese e Taranto. E questo è il diktat in casa a cui lotta. Pistoiese è poi contro il Taranto, due formazioni in lotta per la salvezza. La prima e ultima, nonostante gli ultimi buoni risultati ottenuti dall'arrivo del tecnico Moreno Torricelli. Il Taranto con una partita in meno e un doppio turno da brividi all'orizzonte, prima col Foggia e poi contro l'odiata Cavese tra le mura micche, ovviamente con tutto lo stadio a disposizione vista la decisione del CAMS di chiusura del settore ospiti per motivi di ordine pubblico. Una non notizia, poiché sin dall'inizio della stagione tutti erano certi della restinzione che avrebbero colpito le sfide tra Metelliani e Tarantini. Insomma, per gli Aquilotti una doppia sfida difficile, ma ricca di significato per l'intero ambiente bianco-bru che attende da tanti anni un riscatto sportivo contro la Pistoiese e spera sempre di espugnare lo Iacovone, come già accaduto in passato.